buongiorno buongiorno a tutti voi la mia colazione del latte scremato poi che stanno ma ve lo dico cosa contiene questo pacco fiocchi di avena fiocchi di frumento integrale farina di frumento poi i cereali in estrusi semali mariso farina di frumento zucchero caramellato in polvere fiocchi di maes maes zucchero estratto di malto d'orso polsale emulsionante arachidi e poi zucchero eccetera 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 è una cosa ricco molto buono ci sono anche gli anarchidi questi qua che cosa sarebbero le nocciole gli arachidi cioccolato fondente e questa è la mia colazione di oggi scrivete sotto il video nei commenti se vi piace oppure no se preferite questo oppure quella la frutta io presco questo qua perché una volta mi sono comprata quella la frutta e non mi è proprio piaciuto e 375 grammi piccolino è tanto metà dello scatola comunque buona colazione a tutti un bacio al prossimo video baci baci ciao